La mia prima domanda è qual è la situazione del giornalismo in Italia al momento? Allora, ci sono due dinamiche molto interessanti che si stanno incrociando secondo me. Allora, da un certo punto di vista assistiamo, come dico spesso, al tentativo di moltissime nuove figure professionali, non giornalisti puri. Io sono il primo a non fare giornalista pur, sono iscritto all'ordine, però in realtà faccio tutt'altro, lavoro in agenzie di comunicazione. E attraverso il mio blog o comunque le cose che scrivo su diversi siti ho la possibilità di entrare in uno scenario dove fino a qualche anno fa non sei potuto entrare. Per poter fare il giornalista o comunque per poter incidere o poter dire la mia, semplicemente avrei dovuto passare per un editore, che è un editore di un giornale locale, di un giornale nazionale, di una televisione. Invece adesso tutti quanti potenzialmente hanno gli strumenti per poter imporre o per poter mettere a confronto con altri le proprie idee. Questo ovviamente causa due effetti grossi, quindi il secondo movimento è come i giornalisti tradizionali interpretano questa dinamica. C'è un atteggiamento di tipo aperto da parte di alcuni, nel senso che vedono con piacere le potenzialità della comunicazione in tempo reale, delle nuove media, del fatto che ci siano nuove voci, nuove fonti, più occhi, più orecchi, pronte ad ascoltare, a raccontare. E quindi c'è una parte, secondo me, minoritaria dei giornalisti che capiscono la potenzialità dell'interazione e dell'integrazione e la accolgono anche sui loro siti, sui giornali, sui pezzi che scrivono. C'è invece un'altra parte che sta mantenendo un atteggiamento di tipo difensivo. Probabilmente non riuscendo a capire perfettamente cosa sta succedendo, i tempi sono molto rapidi di questi cambiamenti, bisogna riconoscerlo, ha un atteggiamento di scetticismo genericamente. L'atteggiamento tipico che trovi è che quelli sul web non sono giornalisti veri, mentre noi lo siamo, per un fatto di esperienza, perché conoscono i tempi della redazione, perché hanno i titoli professionali, per cui si sentono comunque sia di un livello un pochino più alto. Questo tipo di atteggiamento difensivo è in realtà la distanza tra il giornalismo tradizionale e quello online. Cioè, appunto, i giornalisti online, una volta vissuta la diffidenza da parte dei giornalisti tradizionali, a loro volta si scagliano, secondo me, con rabbia anche in eccessiva, in certi casi, un po' perché appunto loro parlano e gli altri non ascoltano, un po' perché si sentono figli di un dio minore, quindi si crea una dinamica conflittuale, che secondo me, alla fine, può non far del bene al giornalismo, all'arte, tra virgolette, del giornalismo. Interessante, però, secondo me, questo processo nel medio-lungo periodo, dove per medio-lungo stiamo parlando sempre di sei mesi, un anno, due anni, perché oramai sono questi, secondo me, più ci saranno questi scambi, queste interazioni, questi momenti di riflessione, la possibilità di, a parte degli utenti della rete, di capire quali sono le firme più prestigiose, le firme più autorevoli, alla fine questo tipo di tensione non ci sarà, nel senso che il lettore saprà quali giornalisti della carta stampata meritano di essere seguiti, quali giornalisti dell'online hanno la credibilità tale da essere paragonabili ai giornalisti della carta stampata, quali personaggi della vita televisiva sono credibili e quali no. Quindi si gioca la partita della credibilità, dove in realtà non importa più dove si scrive, cosa si scrive o per chi si scrive, contro la partita della faccia, cioè di quello che si scrive e della verità e della coerenza. E lì, appunto, secondo me, la barriera tra online e offline tenderà a cadere. Hai parlato di giornalisti online e offline, ovviamente in un'ottica di redazione di un giornale. Quello che ti vorrei chiedere è cosa ne pensi di quello che sta accadendo invece ai giornalisti che svolgono il loro lavoro in televisione, soprattutto di questi tempi, diciamo. Anche qui c'è una difficoltà che io comprendo, quasi di tipo antropologico, è legato al fatto che i tempi della televisione sono diversi dai tempi del web, così come i tempi della stampa sono diversi dai tempi del web. I tempi della televisione, appunto, c'è il momento, faccio il TG1, 13.30, ore 20, ore 7, ore 17, non ti puoi sbagliare. Se tra le 17 e le 20 e le 30 succede un disastro, a meno che non ci sia un'edizione straordinaria, come è sempre stato, però se c'è un fatto importante ma non devastante, la notizia non è data dai telegiornali, l'unico modo per averla è internet. Quindi c'è una difficoltà a stare al passo dei tempi dell'informazione come è adesso. Non è colpa dei giornalisti, né responsabilità della televisione, che è uno strumento che ha le sue retoriche. C'è però una difficoltà nell'interpretare la realtà e di portare la complessità del web all'interno dell'esperienza, dell'informazione di tipo... Penso invece a un altro tipo di dinamica, cioè quella dei talk show. I talk show politici stanno soffrendo un po' da qualche anno di un eccesso di polarizzazione del dibattito. Raramente il dibattito porta a una proposta, a un punto di contatto. C'è una continua e perenne guerra tra maggioranza e opposizione. Guerra che tra l'altro si gioca spesso su fatti non dimostrabili, guerra di dati, guerra di interpretazione sullo stesso dato. Immaginatevi un talk show in cui invece che limitarci a guardare questo, dal web arrivano informazioni che vanno a dire X ha detto una cosa corretta con tanto di dato, Y ha detto una cosa sbagliata con tanto di dato. E' un destino tra virgolette della televisione, un destino positivo, un destino in cui il web paradossalmente invece che togliere valore e dignità della televisione ne ne darà del nuovo. Ci sarà una seconda vita della televisione, ovviamente una seconda vita molto diversa dalla prima, di tipo cross-mediale in cui televisione web conviverà nello stesso ecosistema, ma appunto uno slancio che in questo momento chi fa televisione danni ne ha ancora colto. Anche qui si vive un po' una sorta di contrapposizione ideologica tra quelli che stanno in televisione e dicono che quelli che stanno sul web sono di serie B e quelli che stanno sul web che dicono che quelli che stanno in televisione sono vecchi, ingessati. E' un dibattito che però così non porta a nulla di positivo. Senti, hai affrontato questo argomento in un'ottica giustamente di contrapposizione tra quello che è il vecchio giornalismo tradizionale e il web, il giornalismo online. Ti vorrei chiedere a questo punto che cosa ne pensi, diciamo, in un'ottica di libertà di informazione dell'esodo dei giornalisti dalla Rai? Eh, lì bisognerebbe sentire le varie campane e capire chi ha ragione. Oggi Lorenza lei ha detto che lei non ha cacciato nessuno, che Santoro se ne è voluta andare, che la Dandini quando vuole può entrare a fare, parla come Rai, il format della Rai, e può rientrare. Che Ruffini ha alzato alla 7. Questa è la versione della direttore regione della Rai. Le versioni degli altri sono completamente diverse. E' difficilissimo stabilire se le due parti hanno del tutto ragione, del tutto torto. Probabilmente ci sono delle componenti che ognuno delle due parti usa strumentalmente per attaccare l'altra. Di sicuro il Rai non si lavora più serenamente come un tempo. Io non ci sono mai lavorato, però non è difficile capire che ci sono dei giornalisti che hanno più difficoltà a lavorare rispetto a prima, giornalisti che lavorano portando ricchezza all'azienda attraverso la pubblicità, attraverso gli ascolti, e che hanno davanti a loro una logica squisitamente anti-aziendale. Per quello motivo un programma che fa X ascolti e porta fatturato superiore ai costi, quindi c'è un prodotto che in una qualsiasi normale azienda, in un qualsiasi normale mercato avrebbe successo, lì non funziona, non può funzionare. C'è quindi una sovrapposizione tra questioni economiche di fatturato e questioni politiche che talvolta vengono ignorate, quindi si fanno ragionamenti sui tagli, ai programmi, sulla base di logica economica e non logica di servizio pubblico. Quando invece serve utilizzare la questione politica per giustificare altre scelte, viene tirata fuori. Quindi c'è una questione economica e politica che sono piani paralleli che ogni tanto si vanno a sovrapporre, le linee parallele non dovrebbero mai incrociarsi, ma nel caso della RAI succede anche questo. Succede che talvolta l'economia viene messa da parte a far vantaggio della politica e altre volte la politica viene, o comunque il ruolo di servizio pubblico, viene messa da parte per ragionamenti di natura spesso, pretestosamente economici. In effetti appunto si è parlato molto intensamente di questo argomento in questi ultimi giorni, soprattutto per quello che riguarda il programma della Dandini. Sulla falsariga della scomparsa di anno zero dalla RAI, ovviamente ha fatto molto scalpore. Ieri è stata interessante la chiusura di Floris a Balarocca, ha detto che avrei voluto passare la parola alla Dandini, ma purtroppo non si può fare. Interessante quello che sta facendo la Dandini nelle ultime 36 ore, ha aperto una pagina Facebook, ha iniziato a comunicare, ha già diversi... Non abbiamo ancora visto un programma totalmente basato su social media e anche l'idea di Santoro, che comunque è innovativa, non ha ancora questo livello di innovazione che la Dandini, seppur non hanno ancora detto nulla di ufficiale, però lascia prefigurare che vuole appuntare al bersaglio grosso, cosa che teoricamente numeri alla mano si potrebbe anche fare. Se noi pensiamo che Vasco Rossi, ad esempio, ha due milioni di fan circa, più un altro pacco di gente che segue le sue avventure su YouTube e su altri social media, di fatto, se noi andiamo a mettere insieme questa platea di persone, scopriamo che tutto sommato i programmi, soprattutto di seconda e terza serata, anche sulle tv nazionali, fanno più o meno l'ascolto, che in teoria fanno questi strumenti, se utilizzati nei migliori modi possibili. Magari la Dandini farà un anno di purgatorio, nel senso che magari farà un po' di ascolti in meno, guadagnerà un po' di meno, però se avrà in cambio un elemento di innovazione fortissima, e riuscirà comunque a emergere da questo punto di vista, alla fine avrà vinto lei comunque, avrà vinto sulla Rai, avrà vinto sulla televisione, e avrà vinto anche su un certo modo di intenda la televisione, non solo da parte della Rai, ma di tutto il sistema televisivo italiano. Aveva dichiarato, mi sembra qualche giorno fa, che l'avrebbe fatto anche in piazza il programma, se necessario. Sì, c'è questa dimensione di dematerializzazione della televisione, che è molto interessante. Cioè, si esce un po' dallo studio, si va a fare quello che ha fatto Santoro, ad esempio, con Rai per una notte, si cerca, comunque, appunto, come dicevo prima, si può parlare di cross-medialità, dove, nel caso che ho specificato prima, era una cross-medialità tutta mediatica, tra virgolette, tutta su TV e web, cioè tra mezzi di comunicazione di massa. Nel caso della Dandini che va in piazza, è come se si tornasse in qualche modo alle origini, o comunque un modo di interagire tipico dell'Italia, del mondo di 50, ma con i linguaggi nuovi della televisione. Quindi si dematerializza la televisione in due sensi, verso il web e verso la piazza. Secondo me sono esempi entrambi interessanti, e non sono casuali. Dieci anni fa, se fossi andato in piazza, ti avrebbe potuto vedere solamente la piazza ed eventualmente la telecamera che ti aveva puntato davanti. Adesso la Dandini sa che se va in piazza ci sono decine di persone, o centinaia, o migliaia di persone, pronte a fare una diretta streaming, a registrare su YouTube, a dare quindi più vita al prodotto, più vita al contenuto, a farlo girare maggiormente. Non è importante tenere la diretta in sé per sé, cioè è importante registrare lì, in quel momento, per quella dinamica, e poi far vivere quel contenuto infinite volte, in infiniti contesti. Ecco perché di tornare alla piazza torna a essere di nuovo incredibilmente affascinante. Grazie a tutti.